Anche l'ex assessore ai trasporti della regione toscana Vincenzo Ceccarelli, attualmente capogruppo del PD in consiglio regionale, è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla maxigara del trasporto pubblico locale toscano. Sono infatti scattate ieri diverse perquisizioni su ordine del procuratore aggiunto Luca Turco e del PM Antonino Nastasi che da più di un anno hanno acceso i fari sulla gara degli autobus che si è aggiudicata nel 2016 il colosso francese RATP. Tra i nuovi indagati adesso anche l'aretino Vincenzo Ceccarelli che ieri mattina a Palazzo Panciatichi ha ricevuto la visita degli investigatori della Guardia di Finanza. L'ipotesi di reato su cui indaga la procura di Firenze è turbativa d'asta e falso. Nel mirino degli inquirenti sarebbe finita una cena alla quale avrebbe partecipato anche il presidente di TM Massimiliano Dindalini facente parte del consorzio sconfitto Mobit alla presenza di Bruno Lombardi presidente di RATP Italia. Sono sorpreso ma anche certo che riuscirò a dimostrare la mia correttezza ha dichiarato Vincenzo Ceccarelli. Mi sono occupato della gara per il trasporto pubblico su gomma in Toscana per sette anni con un unico obiettivo conclude tutelare l'interesse dei cittadini e dei lavoratori del settore. Nell'inchiesta è indagato ormai da tempo anche l'ex presidente della regione toscana. Oltre a Ceccarelli e Rossi la procura sta vagliando le posizioni di due dirigenti regionali e dei membri della commissione giudicante della gara a seguito del cui esito è iniziata una guerra giudiziaria non ancora conclusa che tiene in scacco l'assegnazione definitiva.